buongiorno a tutti sono il vostro alfred vi prego di scusare il rumore della rima ma sto cercando di evadere dal sacco in cui sono rimasto chiuso per colpa di quegli sciocchi elfi che hanno disturbato le operazioni di imballaggio nel sacco si trovano le coppie di martin mister che mi apprestavo a distribuire quali regali di natale vi troverete scene di azione e suspense ambientate in ogni angolo del globo vi troverete soprattutto demoni che sono quelli che danno titolo alla nostra storia quest'anno gli elfi sono veramente insopportabili ma stavolta credo proprio di averlo preso bene ora mi appresto a salire sulla mia scritta per consegnare i doni purtroppo quest'anno non sarà con me rudolf la famosa renna con il naso rosso infatti lo scorso anno durante una battuta di caccia rudolf si è messa sulla linea di tiro rudolf era una renna bellissima ma devo dire anche che era molto buona a tutti auguro un meraviglioso natale